Buonasera, oggi Specchio affronta un argomento di moda, un argomento che è nelle nostre tasche, nelle nostre mani, parliamo di un telefonino, parliamo dell'iPhone e ne parliamo con Luca Viscardi, direttore artistico di Radio Number One, ma soprattutto fanatico, è la parola giusta, o studioso? Beh l'uno appassionato, perché come quando parliamo di calcio, anche quando parliamo di tecnologia, per me è più una passione che non un fanatismo, però anche è un pezzo del mio lavoro, io ormai da anni faccio questo, scrivo di tecnologia, l'ho fatto per tantissime testate, oggi su Radio Number One c'è un programma che si chiama Mr. Gadget, che è anche una rubrica sul mensile Maxim, è un canale YouTube con oltre 2 milioni di visualizzazione nell'ultimo anno, quindi comunque insomma diciamo che la mia attività è anche, e dico fortunata, provare insomma per dare dei feedback, dei pareri sull'esperienza d'uso dei vari oggetti di tecnologia. Ascolta, nei giorni scorsi, prima in Francia, poi in Italia, abbiamo fatto anche parecchi servizi con il video Bergamo, si è scatenata la corsa al primo iPhone per cercare di arrivare prima degli altri, questo è una cosa che si ripete ogni volta che c'è un nuovo modello, ma la domanda chiave è l'iPhone, il nuovo iPhone 5, è davvero il miglior telefono sul mercato oppure no? E qual è il tuo giudizio? Guarda, io per scelta da diversi anni non faccio più le comparazioni tra telefoni e non mi esprimo mai su quale possa essere il miglior telefono in circolazione, secondo me è quello che gli esperti di tecnologia possono dirvi se un prodotto vale il prezzo che costa, se un prodotto è completo, poi secondo me per trovare il prodotto che è migliore bisogna proprio pensare a quello che serve a se stessi. Ci sono tanti prodotti sul mercato che sono di un altissimo livello tecnologico, poi a seconda di come uno utilizza questi prodotti possono essere i migliori oppure tra i migliori. Diciamo che definire quale telefono sia il migliore in assoluto oggi è al limite dell'impossibile. L'iPhone ad esempio... Tu ce l'hai qua, no? Io sì, ce l'ho... Però nei due, ad esempio. Questo, sì perché proprio in questo periodo sto provando un altro prodotto che probabilmente in questo momento è proprio uno dei migliori in assoluto sul mercato per le caratteristiche che ha tecnologiche. L'iPhone che vediamo qui sul tavolo, questo è l'iPhone 5, secondo me è un oggetto con un design semplicemente impressionante. Non è esente da difetti perché ha alcuni punti, io ne ho proprio anche la prova, sarà praticamente impossibile vederlo da lontano dalla telecamera, ma ci sono dei punti, ecco forse si vede però un pochino. Questo puntino che vedete è una riga sulla scocca che non è l'unica tra l'altro che appare sul telefono perché anche nella parte inferiore ne sono apparsi un paio, diciamo insomma che per un prodotto che costa dai 720 euro in poi il fatto che nel giro di pochi giorni si righi non è esattamente il massimo. Però c'è da dire che questo telefono ha un assemblaggio che fa semplicemente impressione. Tu pensa che non esistono due prodotti esattamente uguali perché la parte in metallo diciamo viene incastonata con la parte in cristallo con una selezione che viene fatta tra migliaia di pezzi attraverso una selezione automatica con una fotocamera di altissima qualità che seleziona i pezzi che sono adatti ad incastrarsi perfettamente l'uno con l'altro e in effetti l'assemblaggio devo dire che è notevole. Io trovo che questo prodotto al di là di alcuni difetti di gioventù che si sono visti, ad esempio si è parlato tantissimo del problema delle mappe che non sono sicuramente diciamo perfette su questo telefono però in realtà ci sono alcune innovazioni ad esempio il fatto che le mappe si possano vedere in tre dimensioni che secondo me comunque sono molto interessanti. Certo dal punto di vista delle mappe ad esempio non è un oggetto perfetto però io credo che quello che molti non riescono a capire di un prodotto come l'iPhone 5 è non tanto il telefono in sé ma il telefono iPhone inserito in un gruppo di altri prodotti che sono l'iPad, l'Apple TV, un computer Mac cioè quando uno nella propria casa ha tutta una serie di prodotti della famiglia Apple può fare molto facilmente delle cose che con altre marche invece sono molto complicate. Ad esempio è facile, qui vi stiamo vedendo ad esempio delle mappe, adesso l'iPhone ha anche un navigatore satellitare integrato. Una delle cose facilissime da fare ad esempio una volta scattata una fotografia è portarla dentro la televisione. con l'Apple TV a casa basta davvero un click per poter guardare le proprie foto, i propri video dentro la televisione. È facilissimo condividerle con amici senza passare da Facebook o da Twitter ma con un sistema che si chiama streaming foto si può scattare una foto e immediatamente farla apparire sull'iPhone o sull'iPad di un amico. Ti faccio una domanda, chi non ha mai posseduto un iPhone può diciamo velocemente apprendere, imparare? Allora questa secondo me è un'altra delle caratteristiche di Apple che per chi non ha mai utilizzato la tecnologia in modo serio secondo me la tecnologia di Apple è molto più facile da apprendere che non quella di iPhone, di Android. Io qui ad esempio ho portato, lo stavo dicendo che stiamo provando proprio in questi giorni un altro prodotto di cui si parla tantissimo vedete che è gigantesco perché ha uno schermo di 5,5 pollici questo si chiama Galaxy Note 2, è un prodotto di Samsung che ha una caratteristica fondamentale. Il fatto di avere questo pennino abbinato, vedete che ha questa punta bianca molto sottile ad esempio con questo pennino è facilissimo ritagliare fotografie, prendere appunti, scrivere a mano libera addirittura sottolineare anche alcune parti di testo, fare tutta una serie di funzioni che di solito sono tipiche di un computer di qualità molto avanzata. Il prezzo dei due è giusto per avere un riferimento? Allora questo costa 699 euro, mentre l'iPhone 5 parte da 729 euro, lo scatto successivo è 839, il prezzo più alto è 949. Sono prezzi secondo me al limite del folle, però è anche vero che tantissimi di questi prodotti ormai si acquistano con un contratto telefonico, con un vincolo che viene dato dall'operatore per un lungo periodo, ma che permette di non pagare o meglio non pagarlo immediatamente, poi lo si paga nel tempo, l'intero prezzo. C'è una curiosità ad esempio che secondo me, quello è un interrogativo che io mi porto sempre presso, è perché ad esempio l'iPhone costi 50 euro di più in Italia rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa, questo telefono ad esempio il Galaxy Note 2 in Italia costa addirittura 100 euro in più che in tutto il resto d'Europa. Hai 30 secondi e minuti per spiegarcelo, oppure per improvare e spiegarcelo, o è una domanda senza risposta? No, è una domanda senza risposta, credo, ma è un'impressione che il tentativo, adesso stiamo vedendo tra l'altro alcune delle cose che il Galaxy Note 2 è in grado di fare, questo è il video di presentazione che è stato presentato in Corea. Io credo che il tentativo sia di spingere il prezzo dei prodotti tecnologici molto in alto per indurre le persone a firmare contratti, perché firmando contratti di lungo periodo, alla fine i prodotti non vengono pagati immediatamente. Una delle problematiche principali, adesso che la portabilità del numero si fa con una facilità assoluta, è che ci sono un sacco di persone che inseguono le offerte cambiando operatore in continuazione. Il problema dell'operatore è cercare di ancorare il proprio utente. Allora, questa prima puntata dedicata diciamo alla tecnologia si chiude qui, poi magari ti ospiteremo altre volte. Ma è con piacere. Se ti andrà, in ogni caso in radio, sul sito, sul blog, Mr. Gaccio lo trovate... La domenica su Radio Number One, se poi siete appassionati di podcast, è un podcast a disposizione, quindi lo potete scaricare e ascoltare quando volete a casa con il computer. Continuare, diciamo, a studiare. Per chiudere, dimmi, la categoria, diciamo, tra le persone a quale consigli, l'iPhone e invece il Samsung. L'iPhone è per? Allora, l'iPhone è per chi vuole rimanere al passo con i modaioli. Quindi, il Samsung Galaxy Note 2 è per chi vuole lavorare senza portarsi il computer sempre appresso. Perfetto. Specchio, invece, è per tutti e ci ritroviamo nei prossimi giorni sempre qui su VideoBergamo. Ciao Luca. Buona serata a voi. Grazie. 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 Grazie.